Ciao, oggi giocheremo a Regina Reginella. La regina è la Emma e loro sono gli ambasciatori. Pronte? Partiamo dalla riga rossa e vediamo chi è la prima che raggiungerà il castello per volere della regina. Ok, allora a turno decidi tu chi parte? Rosa, allora iniziamo da sinistra verso destra? Ok, rosa è la prima. Cosa vuoi fare? Aspetta, deve fare la filastrocca un attimino. Ok. Regina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro, tutto bello? Vediamo la regina cosa sceglierà. Devi fare due rovesciate avanti. Aspetta, rosa, un attimino. Vai. Due rovesciate avanti e ti fermi lì. Leti. Oh, Regina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro e tutto bello? Emma. Oh, Regina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro e tutto bello? Oh, Regina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro e tutto d'oro e tutto bello? Oh, Regina Reginella, è quello? Oh, Regina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro e tutto bello? Oh, no. Per arrivare al castello tutto d'oro e tutto bello? Grazie. 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 Senza mali? Sì. Ok. Questa è il tuo vestito e il tuo vestito è tutto bello. Flick è da quella parte. Origina, originetta, cosa devo fare per arrivare al tuo vestito, tutto d'oro e tutto bello? Noi sono fatti inoltre, non sono fatti inoltre. Grazie. Un plic avanti. Regina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo cassello del tuo giro più bello? Una ruota, no, una rovesciata per così. Avanti. Sì. Orenina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo cassello del tuo giro più bello? Tre passi da scimmietta verso l'iva. Emma. Orenina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo cassello del tuo giro? Due salti da canguro indietro. Orenina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo cassello del tuo giro più bello? Due vermi. Come due vermi? Due passi da vermi? Sì. Ok. Orenina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo cassello del tuo giro più bello? Orenina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo cassello del 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 tuo cassello? Orenina Reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo cassello del 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 tuo cassello? Devi fare per arrivare al tuo cassello del 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 Un tuffo? No. Ora, c'è la regina, la cosa devo fare per arrivare al costale? Un salto indietro. Ora, il mio è la regina, la cosa devo fare per arrivare al costale? Un costale a nulla. Sì. Oregina, la regina, la cosa devo fare per arrivare al castello, tutto d'or, tutto bello? Tre ginocchia da su. Sul posto? No. Di là. Oregina, la regina, la cosa devo fare per arrivare al castello, tutto d'or, tutto bello? Di fare... Le rovesciate avanti le puoi fare? Sì. Due rovesciate avanti per così. Già. Ma scusami, niente, non ho capito. A presto. A presto. Sì. Oregina, la regina, la cosa devo fare per arrivare al castello, tutto bello? Una ribaltanga verso di fuori. Vince la fede!